Care mamme, cari papà, buon pomeriggio. Grazie per chi ancora una volta mi accogliete a casa vostra e benvenuti a casa mia. Innanzitutto, come va? Beh, sono sicura che se vi volessi questa domanda verso le 9 e mezza, 10 di sera, la risposta sarebbe un po' diversa rispetto a quella del mattino e forse le 9 e mezza, 10 di sera è quel momento in cui tra noi genitori c'è il pari disperi di chi deve accompagnare bambini a dormire, perché forse questa è una fase in cui faticano ancora di più rispetto al solito per andare a dormire. C'è uno stato d'animo, casamai, più di agitazione che di stanchezza, perché i loro ritmi sono cambiati, non riescono a dare sfogo a tutta l'energia che hanno in corpo, perché non riescono a vivere la giornata con tutto quel movimento che facevano prima, a partire dal nido per poi passare a casa dei nonni, per poi fare una passeggiata a parco giochi e questo però poi coincide con una stanchezza di noi genitori, che comunque si fa sentire a fine giornata, perché comunque è una giornata piena. Il sonno, l'accompagnamento al sonno ci dà tutti segnali di questo stato di agitazione che coinvolge un po' tutti. Come poter aiutare i nostri bimbi, aiutare noi stessi? Sicuramente forse ancora una volta quello che ci viene in aiuto è il rallentare i ritmi, il dare uno spazio più lungo al tempo. Come? Innanzitutto cercando di non porci l'obiettivo, lo porto a dormire, quindi spero che in mezz'ora, venti minuti si addormenti, ma facendo vivere quella situazione con più naturalezza e aiutandoli con un gesto sano, un gesto di presenza che è il massaggio. I bambini sappiamo che ascoltano quello che noi diciamo, si osservano, ma proprio per questo non dobbiamo mai dimenticare che la prima comunicazione che gli ha permesso di apprendere tutto quello che il mondo gli dà è arrivata loro attraverso la pelle, attraverso le sensazioni che le cose gli hanno rimandato e questo è il momento di ricordarcelo ancora di più. Quindi con un massaggio semplice, fatto veramente di gesti naturali, perché non abbiamo le competenze di chi fa il massaggio in un certo modo, ma siamo genitori e in quanto tali abbiamo sicuramente il piacere di stare con i nostri bambini e sappiamo che i nostri bambini hanno bisogno di una nostra presenza amorevole. Attraverso il massaggio, il toccare i bambini in un certo modo, riusciamo a tenere dentro anche quei bambini piccoli che forse dalle attività che cerchiamo di rimandarvi attraverso video, tutorial ed altro, rimangono un po' più ai margini, anche se per loro comunque ci sono delle attività pensate e strutturate, però è fondamentale per loro avere una pienezza fisica che è fatta di accudimento, che è fatta di un messaggio di presenza e di calore. Infatti loro amano essere massaggiati. Il bambino più grande pensa a quel bambino intorno ai due anni, due anni e mezzo, forse non lo ricerca più, forse anche perché non è abituato ad essere massaggiato, però se lo tiriamo in campo e lo facciamo partecipe, attore attivo di questa cosa, sicuramente amerà anche lui in questo momento. Quindi chiedergli, tu massaggi un poco mamma, mamma massaggi un poco te sul pancino, così sulle gambe, avendo pieno rispetto di quello che lui ama fare. La cosa è semplice perché bastano le mani e basta un po' di olio, olio di mandorle che può aiutare a far scivolare di più la mano sul corpo o anche una crema corpo che noi genitori utilizziamo. Forse questa è anche da preferire perché poi ha quel profumo di presenza che accompagna i bambini anche durante il sonno. Vi abbraccio e spero di essere stata di supporto. Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!